Io direi di cominciare. Allora richiamo aperta la seduta alle ore 9.04. Invito il segretario a fare l'appello. Buonasera, Roberto Zucca, Silvia Bellini, Silvia Moroni, Paolo Montanari, Roberto Fuggini, Davide Rabuffi, Federica Bolognese, Angelo Vitale, Giovanni Zerbi, Giovanni Maggi, Allora al momento assente siamo in attesa, Graziella Invernizzi, Pierangelo Fazzini, Giuseppina De Giorgi. Al momento risultano assenti il consigliere Silvia Bellini e il consigliere Giovanni Maggi. Buonasera a tutti, intanto voglio ringraziarvi, tutti i presenti, tutti gli intervenuti, perché è una serata importante dove stiamo facendo, ho preso conto di un incidente in raffineria. Questo è un consiglio comunale aperto, voglio prima spiegare quali sono le regole, perché è un consiglio comunale regolamentato. Le regole sono che adesso ci sarà la presentazione di quello che ha reso conto, poi il dottor D'Agostino presenterà una relazione relativa all'ambiente, dopodiché i consiglieri nel rispetto di quello che sono i tempi degli interventi del regolamento avranno diritto di parola, dopo passiamo la parola ai nostri invitati e poi se siete tutti d'accordo, il regolamento del consiglio comunale aperto non lo consente, ma se siete tutti d'accordo apriamo anche la parola al pubblico. Il pubblico che desidera intervenire deve iscriversi, Carlo Apogliani è lì, che raccoglierà tutte le persone che desiderano intervenire. Prima dell'intervento devono dare le proprie generalità, il nome e il cognome, perché tutto questo chiaramente viene registrato e verbalizzato. Alle 9.08 è arrivato il consigliere Maggi. Bene, possiamo incominciare la presentazione? Mi alzo così posso seguire le slide. Ecco, come dicevo, questa sera facciamo il reseponto dell'incidente avvenuto in data 1 dicembre 2016 presso l'impianto EZ della raffineria di San Gazzaro da Burbonti. Avevamo a suo tempo fatto già la convocazione, domenica è successo un altro piccolo incidente che non è previsto nell'ordine del giorno, ma comunque qualche dato sia il direttore della raffineria che qui presente si ha, ci potranno dare anche relativamente a quell'incidente. Bene, perché solo oggi, dopo così tanto tempo, qualcuno si sarà domandato come mai ci troviamo solo adesso a fare questo incontro? Bene, perché solo adesso è possibile fare un reseponto che ci permetta di dare almeno delle risposte che prima non erano possibili perché non c'erano i dati. Anche adesso non è che possiamo dare tutte le risposte perché, come ben sapete, una parte dei dati sono segretati dalla procura. Quindi, come voi sapete, le informazioni non sono ancora complete ma sicuramente abbiamo un gruppo che sta lavorando, sta raccogliendo dati e alla fine, quando ci saranno tutti i dati, potremo fare un reseponto e un intercompleto di tutto quello che è successo. Purtroppo la minorenza, come spesso accade, parla, scrive e vuole attaccare a sproposito. Io personalmente penso che abbia perso una buona occasione per evitare inutili polemiche fuori luogo in un momento come questo dove serviva più unità, più compattezza e un discorso più di gioco di squadra proprio perché dobbiamo tutelare i cittadini. Ecco, io vorrei fare un'esposizione sintetica dei fatti accaduti. L'incidente in raffineria è successo alle 15.40 di giovedì 1 dicembre 2016. Fortunatamente non ci sono stati né morti né feriti. Ci sono risultati solo 4 casi di ricovero per panico. Nessun intossicato, si sono registrati sparuti casi di persone che hanno lamentato piccoli disturbi. Dati ambientali al momento non sembrano fuori norma come ci è stato confermato sia da APA che da ATF. Attendiamo comunque i dati della Procura per completare l'iter con i nostri tecnici. Come sono andate le cose? Come vi ho detto c'è stato un incidente alle 15.40. Immediatamente è scattato il piano di sicurezza interno di raffineria. Gli eventi preposti sono subito stati avvisati come previsto dal leader di raffineria e dal piano di emergenza interno. L'affineria procedeva con il loro piano interno e ha richiesto solo l'intervento esterno dei vigili del fuoco. Il massimo livello di pericolo riscontrato è stato è possibile che l'evento in atto risulti critico per il territorio di interesse. È stato valutato fronteggiabile con le strutture a disposizione della raffineria. Quindi la struttura comunale sia attivata per verificare e controllare la situazione con l'impegno di affiare, qualora le condizioni non rendessero necessario, le azioni previste per il piano di emergenza comunale. I scenari di riferimento per questo incidente sono rilascio incontrollato di energia, cioè l'incendio, rilascio incontrollato di sostanze chimiche e tossico nocive sotto forma di solidi, liquidi o gas e in entrambi i casi la liquidizzazione del rischio è comunque facilmente individuabile interessando un'area più o meno estesa circostante l'impianto interessato. Nel caso di rilascio incontrollato di energia l'area da considerare era pressoché circolare e concentrica intorno al punto in cui si era verificato l'incendio e nel caso di rilascio in arcosfera la forma dell'area a rischio era dipendente dalla direzione e dall'intensità dei venti. Di lì erano praticamente suddivise tre zone, una zona di sicuro impatto, che era nell'immediata vicinanza dell'incidente, una zona adiacente, sempre all'interno della raffineria, dove erano state prese le precauzioni da regole loro interne prefissate e poi una zona interna con intervento nel caso in cui la situazione peggiorasse. Ecco, mi ho voluto riportare qui sinteticamente quello che è la descrizione che risale a settembre 2015, che sono i piani informatici di informazione della raffineria alla popolazione. Qui è praticamente descritto quello che poi abbiamo visto dal vero. Per cui questo l'ho voluto riportare per far presente come quello che è accaduto non è un qualcosa di inaspettato, è un qualcosa che era prevedibile, poteva succedere, nello stesso tempo, così come è accaduto, abbiamo avuto modo di vedere come anche il fatto di conoscere che cosa poteva succedere ha fatto sì che gli interventi sia dei decidi del fuoco, sia di tutto il personale della raffineria, tutti quanti, hanno circoscritto in tempi, devo dire, buoni, tutto quello che è successo e quindi portare il sistema a livello di efficienza tenuto. Come diceva qualcuno, una macchina purtroppo è andata contro il muro, ma tutti i sistemi che ci sono per tutelare il passeggero sono stati attivati e hanno funzionato bene. Ecco, la prima votazione tecnica deve necessariamente essere fornita dei responsabili della vita stessa, questo è normale, succede un incidente, i primi che possono sapere qualcosa sono i tecnici e i responsabili della raffineria. Quindi Eni poi ha informato il prefetto, i sindaci, il comando delle corporazioni di Vici del Fuoco, l'APA, l'ATS 118 e i carabinieri. E poi tutti insieme si sono trovati in una palazzina della raffineria per coordinare tutte quelle che potevano essere le precauzioni e gli interventi. Ecco, sulla base dell'informazione i responsabili valutano tecnicamente la natura e l'estensione del fenomeno al fine di attivare eventualmente la struttura comunale e la protezione civile. Quindi dobbiamo considerare che il coinvolgimento della struttura comunale di protezione civile avviene in un secondo tempo quando i Vici del Fuoco, quando i responsabili di raffineria, quando tutti quelli che sono preposti ad andare a verificare che cosa è successo hanno capito che cosa è successo e quindi possono prendere delle decisioni in merito. Ecco, quindi è importante che l'obiettivo prioritario dei Vici del Fuoco è volto a fornire un supporto logistico e a capire che cosa sta succedendo e quindi intervenire nella zona dell'incidente. Poi in un secondo momento l'attenzione viene rifoglia alla gestione delle problematiche di quello che è il carattere sociale che eventualmente si rendono necessarie nel momento in cui l'incidente si può estendere e quindi coinvolgere anche la popolazione. Quindi fondamentale per la definizione delle aree di impatto risultano le condizioni meteorologiche e poi i dati ricevuti e valutati adeguatamente dagli dati dei lavori sugli effetti dell'incidente e sulla popolazione esposta sia quelli a lungo termine che quelli a medio termine e a breve termine. Non si è reso necessario il piano di emergenza esterno quindi tutte le azioni adesso correlate non sono state applicate. Per il personale della raffineria e delle ditte terze c'è un regolamento interno che regola come si devono comportare in caso di incidente. In caso di emergenza con effetti all'esterno c'è un piano di emergenza esterno che viene attivato come dicevamo prima nel caso in cui l'incidente si estende al di fuori di quello che è il perimetro di raffineria. in questo caso come abbiamo visto e come abbiamo detto non è successo e quindi non è stato attivato il piano di emergenza esterno. come informazione 45 minuti dopo l'incidente appena ottenute le prime informazioni è stato emesso il primo comunicato sul sito del comune e sul sito facebook che era stato aperto proprio per informare sulle diverse attività in questo caso è stato utilizzato per informare su quello che è successo. Dopodiché avvisata la protezione civile è stata data ampia diffusione anche attraverso il megafono con i passaggi nel territorio. Nelle successive 5 ore sono stati emessi altri 4 comunicati di aggiornamento e man mano che arrivavano tutte le informazioni venivano sempre pubblicate sul Facebook pubblicate sul sito e comunicate. Sono stati utilizzati mezzi a disposizione che garantivano personale formato e informato perché questo è importante che lo sottolineo personale formato e informato adeguatamente e contratti in essere che si ricuravano in pieno utilizzo. Quindi sono i mezzi che potivamente erano affidabili che abbiamo potuto utilizzare. Ecco, dopo 10 minuti dall'incidente si è attivato il nostro gruppo operativo del comune e successivamente la protezione civile che è stata immediatamente avvisata. Presso la palazzia della raffineria ci sono riuniti i sindaci di Carabinieri ARPA ATS e 118 che hanno in costante contatto con il prefetto. Si sono stabilite e attivate in intesa con tutti gli attori presenti le misure ritenute più opportune da adottare per allertare e proteggere la popolazione che poteva essere coinvolta. E' stato deciso di emettere un comunicato precauzionale cautelativo e preventivo che invitava la cittadinanza a restare in casa. L'incendio è stato circoscritto in breve tempo. Quello che preoccupava è la forte e intensa nuvola di fumo. La nuve comunque era andata molto in alto e le favorevoli condizioni meteo potevano lasciare intendere che i venti in quota potessero disperdere questo fumo in ampi spazi e quindi concentrazioni prodotte di modo che le ricadute venissero diluiti in tempi e spazi riducendo così quello che poteva essere un rischio di impatto ambientale rilevante. Questo è stato quello che quella sera abbiamo rilevato. Precauzionalmente comunque con gli altri sindaci abbiamo deciso di chiudere le scuole il giorno dopo non si sa mai il meteo può cambiare e quindi automaticamente poteva peggiorare la situazione e quindi precauzionalmente abbiamo preferito prendere questa decisione. La polizia locale è stata subito informata dal sindaco e si è prontamente attivata per tutelare l'incolumità impegnandosi nei posti di blocco nei vari posti dove era stato prefissato al fine di effettuare interventi dove fosse necessario. Allo stesso modo la protezione civile si è raffunata nella loro sede e ha svolto con massima diligenza e preparazioni le disposizioni loro impartite e a loro va il mio ringraziamento. I metri informativi di comunicazione protezione civile con gli altoparlanti sito comunale sms pannelli luminosi sirene non sono menzionate nel PEP del 2013 e nelle altre informative sono citate solo nel nostro PEP comunale. Media e recentemente è stato introdotto Facebook. Ecco Facebook secondo me come esperienza è stato uno strumento eccellente di grande comunicazione e di grande successo per l'informazione. Questo perché vi faccio una serie di esempi come li ho segnato. Alle 16.30 noi abbiamo messo il primo comunicato 64.255 contatti 763 condivisioni alle 18.14 la nota stampa di ieri ha avuto 40.046 contatti 43 condivisioni alle 19.19 abbiamo fatto il comunicato di chiusura a scuole 12.914 contatti 159 condivisioni 21.09 informazioni sull'analisi delle centraline dell'aria 22.425 contatti 124 condivisioni alle 22.02 collegamento al sito ARPA 5.263 contatti 41 condivisioni il 2 dicembre alle ore 10.24 abbiamo messo un altro comunicato revoca dello stato di allarme 8.127 contatti 78 condivisioni alle 11.11 è uscita un'informazione che spiegava che c'erano farsi tecnici che speculavano su un incidente per fare delle azioni maravigliose e abbiamo avuto 85.516 contatti 1.607 condivisioni alle 11.23 un'informazione pilotativa dell'incidente 15.535 contatti 19 condivisioni 11.30 stop alle limitazioni di stare in casa 3.795 contatti 50 condivisioni il 3 dicembre l'ultimo comunicato sull'incendio 789 contatti 4 condivisioni ancora il 5 dicembre alle 12.50 abbiamo segnalato che c'era il residuo solido di segnalare chi aveva residui solido affinché la raffineria procedesse a portarli via 2.696 contatti 27 condivisioni 10 dicembre 10.38 la lettera dell'ADS relativamente ai consumi di frutta e verdura 5.721 contatti 5.721 contatti 42 condivisioni 23 dicembre il comunicato a APA dell'esito degli analisi dei residui solidi 837 contatti 28 condivisioni ecco gli altri mezzi di comunicazione il sito istituzionale praticamente è andato in parallelo con Facebook i pannelli luminosi a mio giudizio sono un sistema un po' da rivedere scrivi tre righe e ci vuole un quarto d'ora stare lì davanti a leggerlo non ci arrivi più capire e oltretutto c'è anche un contratto di manutenzione e assistenza veramente inefficiente perché se per caso si bloccano non c'è nessun contatto immediato per poterlo ripristinare ma bisogna aspettare che vengano sistematelo quando sono disponibili poi l'app city user che è stato attivato e usato e sono comunicazioni simili a quelle di Facebook con un numero di persone iscritte 196 utenti che si sono iscritti a questo sistema le sirene è un sistema che non è previsto nei mezzi di comunicazione inspiegabilmente a parere mio è stato inserito nel PEP devo dire che questo è un sistema completamente da rivedere perché ha troppe lacune i media siamo intervenuti in diretta e a telepavia e poi abbiamo dato la massima disponibilità a tutti i media al fine di poter raggiungere il massimo numero di persone anche attraverso questo strumento SMS questo è famigerato perché è stato quell'oggetto di varie polemiche e discussioni ecco questo sistema qui nel febbraio del 2016 è stato attivato un nuovo contratto prima c'era una società nel 2016 a febbraio è stato fatto questo nuovo contatto contratto ma non si capisce per quale motivo se lo sono tenuti segreti il personale non era informato e formato per utilizzare questo sistema di informazione oltretutto l'azienda telefonica ha chiaramente che fornisce questo sistema di SMS ha chiaramente fornito una loro idea di come è andata la storia degli SMS e ci dicono sotto il profilo strettamente contrattuale come si evince dalle condizioni di utilizzo del servizio SMS che sono state da voi accettate il relativo utilizzo è da evitare in situazioni che ricorrono sicuramente nelle circoltanze di pericolo e di emergenza che purtroppo si sono verificate lo stesso primo dicembre questo è il comunicato che la società che ci dà in gestione i servizi SMS ci ha mandato quando abbiamo chiesto spiegazioni io personalmente vi faccio anche una domanda per una corrente informazione di un servizio SMS quante persone pensate che si debbano raggiungere con un servizio SMS 2200 su 5500 persone è un risultato minimo accettabile penso che siano buone quale dato potrebbe essere secondo te 1000 benissimo un ottimo dato benissimo abbiamo iscritte al servizio SMS 561 persone e diversi utenti hanno lasciato anche 2 e 3 numeri per cui infatti le somme ci sono circa 400 persone che sono avvisate con il servizio SMS persone che la maggior parte sono anche iscritte al siti user anzi quasi tutte direi e tutte hanno un servizio Facebook che sono state raggiunte da Facebook questo quindi è un sistema sicuramente da rivedere sia sotto l'aspetto contrattuale sia sotto l'aspetto numerico aspetti organizzativi e l'emergenza esterna ecco in caso di incidente rilevante con possibile interessamento di aree esterne della raffineria si attiva il piano di emergenza esterna quando c'è un piano di emergenza esterna viene attivato il funzionamento dei gruppi semiforici della raffineria e la popolazione di allertare è quella che si trova nel raggio di mille metri dal centro di pericolo siccome il piano di emergenza esterna non c'è stato questa cosa non è stata attivata appena giungevano aggiornamenti sulla natura dell'evento e si decidevano le precauzioni da tenere veniva tempestivamente informata la popolazione come abbiamo visto con Febu e con gli altri mezzi disponibili funzionanti e ritenuti idonei alla situazione contingente sono stati attivati i volontari della protezione civile e la polizia locale perché fornissero supporto all'attività di informazione e si preparassero in caso di peggioramento della situazione cosa che fortunatamente non è avvenuta attivate comunque alcune procedure come la chiusura di alcune strade e delle scuole il giorno dopo come ben sapete abbiamo seguito le borgesi della situazione abbiamo recuperato dati ci siamo preoccupati e questo io devo dire proprio per trasparenza per la prima volta nella storia degli eventi e degli incidenti a Sannezzaro è stata attivata ARPA è stata attivata TS sono venuti hanno fatto dei dappionamenti hanno fatto delle analisi e stanno praticamente vicini a tutto quello che è il sistema e la tutela dell'ambiente per la prima volta a Sannezzaro è successa una cosa di questo genere lo voglio sottolineare e quindi sono venuti hanno fatto prelevamento dei terreni hanno fatto i campionamenti di quei pezzi che si sono trovati in giro hanno fatto tutte le analisi è intervenuta la procura adesso i bilati sono tutti in procura appena ci saranno a disposizione abbiamo i nostri terzi il nostro gruppo della della commissione di sovraguardia ambientale che ci darà una modellizzazione e ci darà tutta la informazione possibile per la prima volta a Sannezzaro succede questo come analisi e trasparenza ecco diciamo la commissione di sovraguardia ambientale la commissione di sovraguardia ambientale è un punto importante secondo noi di quello che è la possibilità di sapere e di prevenire meno male che abbiamo introdotto un nuovo esperto e ne introdurremo appena possibile altri devo far presente che la presenza di amministrazione aveva tolto tutti i tecnici noi avevamo tre tecnici importanti per sapere per conoscere quello che è la situazione dell'ambiente a Sannezzaro continuamente erano stati tolti tutti era rimasto solo il segretario d'Agostino adesso siamo già riusciti ad introdurne uno un responsabile un espertissimo dell'area a livello nazionale e quindi abbiamo sicuramente una persona che supporta la nostra commissione supporta il nostro segretario d'Agostino per darci tutte le informazioni e per aiutarci a capire e a prevenire i sindaci si riuniranno per definire azioni congiunte e piani condivisi al fine di evitare confusione confusione perché se noi abbiamo un piano Ferrera ce l'ha un altro Mezzara ce l'ha un altro Scaldasole ce l'ha un altro ancora la gente non capisce più niente è successo che praticamente a Sannezzaro dicevano stai in casa dice io che sono di Ferrera no perché tanto posso uscire perché non me l'hanno detto o viceversa quindi dobbiamo cercare di essere tutti uniformi in quelle che sono le situazioni ed è quello che cercheremo di fare proprio perché stiamo creando una rete tra i comuni che è una cosa molto importante per tutte le attività che ci aiutano ecco poi con l'aiuto di tutti vogliamo tutti quelli che vogliono collaborare con spirito costruttivo senza stare a polemizzare o quant'altro ecco noi continuiamo a rivedere il PEC abbiamo un gruppo che lo sta studiando dal mese di luglio proprio perché vogliamo cercare di aggiornarlo il più possibile e portarlo in condizioni di essere effettivamente efficiente e funzionale per quelle che sono le esigenze di questo territorio cosa fare dopo? ecco intanto noi abbiamo già cominciato da tanto da diverso tempo ci siamo già trovati in prefettura ci siamo già trovati in altre occasioni in incontri con i sindaci in incontri con tanti altri con tutti quelli che sono gli attori protagonisti di questo nostro territorio prima di tutto abbiamo chiesto che la qualità per la raffineria sia un qualche cosa percepito anche all'esterno cioè loro lavorano in qualità è una raffineria che ha tutti i crismi per lavorare perfettamente certificata sotto tutti gli aspetti quello che è importante proprio un discorso di comunicazione affinché le loro sicurezze le loro certezze interne siano anche sicurezze per l'esterno e poi quello che è la rivalutazione del tessuto industriale e dei lavoratori perché abbiamo bisogno che le aziende noi ma penso che anche il gruppo Eni ne abbia bisogno di aziende e dei lavoratori che possano dare continuità così come è successo in passato noi ci siamo mossi in questa direzione sotto un progetto da perseguire il distretto dell'energia è un'idea che io coltivo da diverso tempo è che è quella di far sì che questo territorio sia effettivamente non sia ricordato o non venga solo visto come quello dove è successo l'incidente di raffineria ma deve essere visto come un'area dove ci sia la miglior tecnologia al mondo quali perché la raffineria ce l'ha la miglior tecnologia al mondo e allora vogliamo che tutte queste tecnologie che tutta questa formazione che tutta questa informazione venga trasmessa sul territorio attraverso un centro un polo tecnologico dove ci sia ricerca dove ci sia formazione ma soprattutto dove possano crescere delle aziende preparate formate che siano una spalla soprattutto le altre quindi possono tranquillamente vincere le gare di raffineria quando ci sono perché sono formate noi abbiamo messo sul tavolo perché ci siamo impegnati e abbiamo ottenuto importanti finanziamenti dalla regione proprio per chi si vuole insediare o per chi vuole migliorare i propri standard qualitativi tra le aziende che ci sono nel territorio quello che vogliamo è arrivare insieme ne abbiamo già discusso il progetto sì è fattibile e quindi studieremo il modo di farlo per arrivare ad avere appunto un polo tecnologico che possa consentire alle aziende di crescere e di svilupparsi affinché questo territorio sia un territorio di tecnologia un territorio di sicurezza un territorio di formazione dove le aziende vengono qui si stabiliscono qui non è che vengono e vanno di continuo si stabiliscono qui ci danno continuità e fanno lavorare i nostri tecnici perché questa è una zona vocata proprio per fare questo tipo di lavoro e ne ha una storia e vogliamo che questa storia continui il più possibile sia per quello che riguarda i dipendenti sia per quello che riguarda le aziende grazie grazie grazie